È il grande giorno di gara 1 di semifinale Scudetto tra Venezia e Avellino. La Siligas ha raggiunto la Laguna nella serata di ieri per produrre rifinitura al Talircio, teatro dei primi due match della serie al meglio dei sette match. Si riparte dal 7 a 5 complessivo per una sfida che in stagione dà il sapore di 4 a 0 Reier, ma che risulta inedita negli scontri play-off. Coach Walter De Raffaele, confermato alla guida degli Oro Granata per altre tre stagioni, può contare sul primo roster italiano per la percentuale al tiro da oltre l'arco e per il numero di conclusioni prese dalla lunga distanza e mandate a bersaglio il 40.6%. Dal canto suo Avellino risponde con la produzione di assist, ben 21 di media a gara nei primi tre match di play-off nella serie con Reggio Emilia. Per numeri individuali Sponda Reier spicca Markin Saints, secondo per media punti nei giochi Scudetto con 18 a gara, mentre per la Scandone è col miglior rimbalzista Kirillofesenko, dominante in particolar modo in gara 1 con Reggio nei quarti di finale. L'Ucraino viaggia a ritmo di 8.7 carambole conquistate nelle sfide play-off. Fesenko per impatto, Logan per continuità. Il giocatore USA polacco risulta come l'uomo più utilizzato fin qui nella post-season con oltre 32 minuti di impiego. Dati e numeri che varieranno nella prima super sfida tra Venezia e Avellino. Cuore grinta con roster al completo da una parte e dall'altra in un talircio da sold out.